Da qualche anno ho cominciato una cosa che ha reso molto felice mia mamma. Sì, molto felice mia mamma. Ho cominciato a chiamarla su Skype, perché così mi vede, sai le mamme dicono che ha mangiato questo posto e così via, e alla sera così sanno, perché è bello che uno possa vedere il volto, vale molto più di una telefonata. E noi stasera cominceremo un discorso legato alla rivelazione, e noi siamo fatti per guardarci in faccia, per contemplare il volto delle persone che amiamo. E figuriamoci come è potente l'idea di un Dio che si mostra e si fa vedere, e su Skype anche lui magari, un Dio che si fa vedere. E sappiamo che Dio ha migliaia, migliardi di modi per farsi incontrare, per rivelarsi. Uno di questi è quello che passa attraverso la preghiera, che è quella che noi facciamo, ma tanti altri, non occorre che sto qua a citarli, perché poi ce ne sono tanti quanti, sono gli esseri umani sulla Terra. Per cui credo che parlare di un Dio che si rivela sia un argomento interessantissimo, e che è propriamente catechetico, e che riguarda anche la nostra esperienza di cristiani e di testimoni della fede, per quanto concerne il nostro ruolo di catechisti o di conduttori dei gruppi degli adulti. Ora mettiamoci in preghiera, e chiediamo a Dio di rivelarsi in questo momento dove tutti siamo riuniti nel suo nome, e quindi noi sappiamo di questa presenza, che sia una presenza che ci dia conforto, che ci dia luce, che ci dia anche lungimiranza in quello che noi possiamo fare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Santo Spirito, illumina le nostre menti, rendici docili alla Tua volontà, capaci di cogliere il vero bene per noi e per le persone che incontreremo. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Don Raffaele lo conoscete, non c'è bisogno che vi dica chi sia, della sua capacità espositiva, anzi vedete anche che dal testo che ci ha fornito per il suo intervento, dettagliato e preciso, avremo sicuramente un incontro interessante. Ha suddiviso il suo intervento in due momenti, questo è il prossimo, quindi stasera lasciamo lo spazio a quello che porta come titolo complessivo l'incontro tra Dio e l'uomo, la relazione tra rivelazione e fede. Oggi vediamo il primo passaggio. Grazie e ben ritrovati. È un dittico, perché l'incontro è sempre a due, almeno a due, tra Dio e l'uomo. Oggi, stasera, ci concentreremo su Dio, la volta prossima sull'uomo, su Dio che è protagonista dentro questo incontro, la volta prossima sull'uomo che è coprotagonista dentro questo incontro. Perché la parola rivelazione è una parola tecnica inventata apposta dal linguaggio della teologia del cristianesimo per indicare cosa fa Dio quando incontra l'uomo. Quindi rivelazione è il termine proprio con cui il cristianesimo ha imparato a nominare Dio che incontra l'uomo. Potremmo dirlo anche Dio ha incontrato l'uomo. A livello tecnico si dice Dio si è rivelato all'uomo, la rivelazione di Dio. Quindi il compito che io mi propongo questa sera con voi è, al di là di chiarire tutte le cose anche un po' equivoche che potrebbero essere addebitate al concetto di rivelazione. Cosa vuol dire rivelazione? Cosa pensa uno quando sente una parola del genere? Andremo a chiedere alla Bibbia fondamentalmente come intende l'incontro tra Dio e uomo per poi arrivare a un documento del Concilio Vaticano II, la Costituzione Dogmatica dei Verbum, in cui in maniera sintetica si spiega, da un punto di vista cristiano-cattolico, l'ultimo documento magisteriale importante, cosa si debba pensare, cosa si debba insegnare quando devi parlare dell'incontro di Dio con l'uomo. Capite che il tema è vastissimo perché l'incontro tra Dio e l'uomo è il tema di tutta la Bibbia e di tutta la storia. Noi staremo ad alcuni punti importanti per cogliere la direzione di percorso. Nonostante sia corposo il tema dal punto di vista sia biblico che teologico ritengo non banale mai dimenticare la parola, perché noi usiamo la parola rivelazione ma non diamo mai per scontato che chi ci ascolta, forse neppure noi, abbiano le idee chiare in merito. In italiano la parola rivelazione viene usata per diversissimi fenomeni. Si dice rivelazione la scoperta, una scoperta dal punto di vista scientifico, ma un tipo di scoperta, quella scoperta che porta a rileggere tutti i dati che avevi in mano in una maniera diversa. Ci sono tante scoperte scientifiche, ma quali sono le scoperte rivelative, che sono una rivelazione, tipo quella di Einstein, che mettendo insieme le forze in una maniera particolare porta a rileggere tutti i dati e le scoperte precedenti in una maniera nuova. Quindi si chiamano scoperte che sono una rivelazione dal punto di vista scientifico, quelle scoperte che hanno una portata capace di interpretare, rileggere tutta la fatica anche della scoperta della coscienza umana in maniera particolare. Ancora, vedete che a Sanremo va da uno di Leno e tuo vicino di casa non l'hai mai sentito cantare, va a Sanremo, fa una performance che rimane a bocca aperta. È una rivelazione, è interessante, è una persona che ti si rivela in una maniera molto sorprendente, mai l'avresti detto perché non conoscevi questo suo modo o questa sua possibilità. Applicatelo poi a qualsiasi altro campo, dal calcio allo sport, alla vita da insegnante lavorativa, una rivelazione. Ancora, nel campo della conoscenza, cioè dello studio che studia la conoscenza, come si fa a conoscere, cosa succede quando si conosce, si chiama evento rivelativo, quel momento in cui si capisce quello che stai studiando. Anche qui ve lo spiego subito. Io non ci ho mai capito una cipicchia di matematica, chimica, fisica, la roba è lì. Io studiavo tutto a memoria e andavo via liscio come un fuso, tranne se il professore era un po' intelligente e mi scardinava. Vi sarà capitato ancora di studiare delle cose? Io la applico per me alla matematica. Non capivo, leggevo quelle cose, ma non le capivo. Poi a un certo punto, tam, ti si accende qualche cosa che capisci quella cosa lì che hai sempre letto, hai studiato magari da mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, ma ti si accende quella cosa lì. E quella cosa lì, stiamo ancora studiando che cosa sia, perché è impressionante, non dipende tanto dallo studio mnemonico, ma è un momento conoscitivo, rivelativo, idea. Ah, ho capito che dà un senso a tutte le informazioni che stavi raccogliendo. Ancora in maniera molto più prosaica, chiamiamo rivelazione la divulgazione di qualcosa che doveva rimanere segreto. È stato rivelato ciò che in realtà doveva essere appannaggio solo di qualcuno. Alziamo un po' il tono. Sia la medicina che la psicanalisi usa certi sintomi come rivelatori di stati d'animo o del corpo. Quindi se hai male di qua è rivelativo del fatto che probabilmente c'è in corso un'infiammazione dell'appendice, o certi lapsus, o certi tic sono rivelatori di, o potrebbero essere rivelatori di, interessante rivelatori, c'è qualche cosa che si vede, ma c'è bisogno di un'interpretazione molto più profonda, perché non è a una prima lettura, ma sta dietro, dice di altro. O, ancora, questa è la ricerca filosofica, soprattutto del Novecento, soprattutto sull'arte, ha chiamato momento rivelativo soprattutto il momento estetico-artistico. Apro e chiudo la parentesi, se avete idea bene, se non avete idea va sicuro che si campava bene ugualmente, Heidegger, soprattutto Heidegger, ha imposto questo linguaggio nella filosofia europea, perché ha indicato l'arte come il modo in cui l'essere viene al linguaggio, viene a dirsi. Perché l'arte non è solo un orpello per chi non ha niente da fare, perché nella poesia, nella pittura, secondo lui soprattutto nella poesia, certo tipo di poesia, lì si annuncia, si rivela l'essere, noi diremmo, il meglio del meglio, il divino, lo spirito, il sacro. È molto interessante, perché se così fosse vero, vuol dire che noi abbiamo un po' di problemini, perché noi brecciali siamo bravissimi in tante cose, ma sulla dimensione artistica non so voi come la pensate, ma a me quando, io non sono mai stato portato né a musica, né a teatro, né a museo dei miei genitori, zero, mai. Gli ho portati io per la prima volta, ma quando ho portato per la prima volta mio padre qui a Santa Giulia e mia madre a Santa Giulia a una mostra di impressionisti, mia mamma, perché la mamma ha una devozione al figlio, stava lì e faceva anche finta di capire, e mi dava anche ragione. Mio padre a un certo punto, il troepio, il troepio, era là a guardare i serramenti in alluminio, perché lui è serramentista, dice, allora come gli fai i suoi bei, allora che bei. Allora ho detto, ok, va bene. Chiaro? Interessante. L'arte come momento rivelativo dell'essere. Andiamo all'ultimo stadio che poi ci introduciamo, e uso il piccolo principe. A livello di riflessione antropologica profonda si chiama momento rivelativo, quel momento in cui scopri il motivo per cui sei al mondo. Quando ti si accende la lampadina, quando so perché ci sono, so perché vivo. Noi lo chiameremo nel nostro linguaggio il momento vocazionale, la scoperta della tua vocazione. è la rivelazione della tua esistenza. Non è sufficiente vivere, non è sufficiente neanche pensare chissà cosa faccio, ma ci sono dei momenti nella vita in cui scopri chi sei e perché ci stai al mondo. Sono dei momenti rivelativi della profondità di te e della tua esistenza. Capite che il linguaggio usa il termine rivelazione per tante di quelle possibilità, e in tanti di quegli ambiti, che la domanda si impone spontanea. Quando i cristiani usano il termine rivelazione, quando il cristianesimo adotta questo linguaggio, che cosa intende dire esattamente? Perché non intende dire nessuna di quelle cose che sono state dette fino adesso, perché ha un passo in più o una modalità in più molto più profonda. E quindi o la si conosce o altrimenti c'è il rischio che tu pensi ah Dio si è rivelato, ha divulgato un segreto delle verità soprannaturali che noi non dovevamo conoscere, non avremmo mai potuto conoscere. Per un bel po' anche noi cristiani abbiamo pensato questa bestialità, però su questo lavoreremo un po' la settimana prossima, eh la volta prossima, non la settimana prossima. è rivelazione, vuol dire Dio si rivela, cosa succede, cosa fa. Per dare una risposta a questa domanda dobbiamo chiedere al testo sacro, perché non possiamo inventarci noi il cristianesimo che vogliamo, neanche se è bello, carino e simpatico o tradizionale. Dobbiamo chiedere al testo di riferimento la Bibbia come interpreti il modo con cui Dio incontra l'uomo. Ora, la prima scoperta che si fa andando a cercare nella Bibbia questo tema è che non esiste, o meglio, pur esistendo, è pochissimo usato il termine rivelazione. Se voi aprite la Bibbia, la leggete tutta, usate un motore di ricerca che è molto più comodo, all'interno di un testo biblico se la dovete leggere tutta per cercare dove c'è il termine rivelazione, che è di Mürer, se cercate la parola rivelarsi di Dio, rivelazione di Dio, troverete pochissime referenze, pochissime. non usa volentieri la Bibbia questo termine. In greco questo termine è apocalipse, quindi l'apocalisse è intitolato così perché in greco inizia apocalisse che Giovanni ha, rivelazione che Giovanni ha, quindi l'apocalisse è un testo che porta una rivelazione, non parla della fine del mondo, e non è l'apocalisse, la fine del mondo, ma il termine stesso vuol dire semplicemente rivelazione. O altrimenti l'altro termine che è diventato famoso subito dopo il tempo pasquale, subito dopo il Natale, l'epifania. Epifania vuol dire manifestazione, rivelazione. Sono dei termini che certo esistono, ma non sono molto usati dal testo biblico, perché il motivo è molto semplice. Tutti i popoli, tutti i popoli intorno a Israele chiamavano rivelativi quei riti o quelle tecniche attraverso cui estorcere a Dio la sua volontà. Anche qui facciamo l'esempio che è molto comodo. Cosa facevano i popoli del bacino mediterraneo, tanto più quelli verso destra, là, verso la mezzaluna fertile. Quando volevano sapere la volontà degli dèi, una delle tecniche più usate, anche la Grecitas faceva così, era l'epatoscopia, è l'apostrofo epatoscopia. Cioè andavano a vedere il fegato degli animali e da come era il fegato sapevano dire se Dio voleva A o Dio voleva dire B. Guardate che noi non siamo molto distanti, con i fondi di caffè, con le linee sulla mano, che è la roba lì, eh. Loro lo facevano col fegato del vedel, ma dopo va bene, noi lo siamo un po' più sempliciotti, ma perché? Dalle interiora degli animali puoi sapere quello che Dio vuole. La Bibbia rifugge come il diavolo, tutte quelle robe qui, perché dice oh, il nostro Dio è lui che ci parla, è lui che si rivela, mica dovremmo andare noi a fare su tutti questi striamage per farlo rivelare, non dobbiamo mica andare dalla Sibilla noi, eh. Non dobbiamo mica fare delle cose strane per far parlare la divinità. Le divinità degli altri popoli sono mute. hanno bocca ma non parlano, sono cieche, hanno occhi ma non vedono, ma il nostro Dio non è come quello. Per questo non amano usare il termine rivelazione, perché nella cultura del tempo era applicato a delle dimensioni molto particolari per cui l'uomo tirava fuori dalla bocca di Dio, pensavano così, la sua volontà attraverso delle cose un po' stravaganti. Attenzione perché ci sembra tutto molto molto strano, ma vorrei ricordarvi che il sommo sacerdote nell'Ephod, nel quadratino che portava qui davanti, aveva dentro dei bastuncini, Purim e Tummim, e quando non sapeva come risolvere le situazioni, li tirava fuori, alcuni erano più lunghi, alcuni erano più corti, e poi li faceva scegliere a estrazione e quello che saltava fuori, quella era la volontà di Dio. Quindi Israele ha praticato anche questa modalità. Come faccio a sapere quello che Dio vuole? A volte in dubis! Vi sembra strana la cosa? Andate a leggere Atti degli Apostoli, come è stato scelto Mattia. Mattia è stato scelto così, tirando a sorte, perché c'erano due, Gesù detto il giusto, e Mattia. Tutti e due bravi per sostituire Giuda. Chi scegliamo? hanno tirato a sorte. E se vi avete presente la chiesa copta, i cristiani dell'Egitto, che non sono né ortodossi, né cattolici, è una suddivisione molto più antica e particolare, i copti hanno scelto il loro papa, quando è morto Shenouda III, il loro papa, il loro punto di riferimento, forse vi ricordate, è capitato tre, quattro anni fa, in una boccia, come la Champions, hanno messo dentro tante palline di tutti quelli che erano bravi, e poi hanno preso un bambino, hanno fatto girare, e hanno tirato su, e questo qui fa il papa. Che è una modalità interessante, perché l'idea è, noi uomini abbiamo visto tre o quattro bravi, potrebbero fare tre o quattro il papa. Facciamo così, tiriamo a sorte, perché se Dio volesse intervenire, questo è il ragionamento, se Dio volesse intervenire nella sorte, può fare quello che la voglia. Quando l'uomo è troppo cosciente e decide lui, non sai se Dio può operare. Ma laddove c'è l'imponderabile, Dio, l'uomo non può agire, Dio può agire di più. Questo è lo schema mentale. Vi è chiaro? È per questo che Dio parla nei sogni, nell'Antico Testamento, perché il sogno, secondo la mentalità ebraica, è il momento in cui tu non sei cosciente, quindi, meno sei cosciente tu, più può parlare Dio. Non funziona così, né? Ok? Però questo è lo schema. Che faccia che ci avete? Avete presente quando si dice a Giuseppe che gli apparve in sogno un angelo, che le mie un sogno, né? Perché mentre stava pensando a queste cose, gli apparve in sogno. Cioè, si sta pensando le mie ore a dormere. Però, apparire in sogno è un modo per dire che quel pensiero non gli è venuto dal suo ragionamento, ma per grazia di Dio. Ok? Chiusa la parentesi, che è una modalità linguistica che l'Antico Testamento usa a piene mani. Bene. Visto che non gli piace la parola rivelazione, perché è una parola che porta su una cattiva strada, qual è la parola migliore per dire Dio che va incontro all'uomo? La parola migliore è parola. L'Antico Testamento per dire Dio si rivela, usa il parlare. Dio parla. Per dire quello che noi intendiamo con rivelazione di Dio, l'Antico Testamento usa il concetto di parola di Dio. Perché parola di Dio? E qui è fantastico. Perché parlare è indice di una relazione d'amore libera in cui io condivido me stesso. Mi spiego, ci sono tanti tipi di parlare, c'è anche la chiacchiera, ma come indica il dialetto bresciano due fidanzati? Cosa fanno due fidanzati? I separlo. Bravissimi. Se capite il dialetto bresciano avete capito l'ebraico, perché quando in fondo alla lettura si dice parola di Dio e non dite è parola di Dio perché giuro vi strino, perché è stato riprovato, come è parola di Dio? Non sei tu che dici è parola di Dio, ma Dabar Yahweh, Dio ha parlato, cioè Dio si è rivelato, lì dentro ti sta dicendo, sta comunicando il suo atto d'amore. Michele Infiamade, scusate se ci siete dentro, che va a attaccare la roba che è scritta, parola di Dio le letacco le robe, no, è scritto così, ci sarà il motivo, se non lo sai almeno faiito e si umile a leggere quello che sta scritto, no, Dabar Yahweh, è bellissimo, Dio ha parlato, dice parlo, perché tu puoi anche stare insieme un sacco a un figlio, ma se lui non ti parla che ne sai di lui? E lo sappiamo tutti che funziona perché se uno non vuole liberamente dire quello che passa nel suo cuore, tu ci puoi anche stare insieme, ma l'hai davvero incontrato, è davvero una relazione compiuta, perché il parlarsi e il condividersi è per la Bibbia il prototipo di una relazione in cui la mia intimità, tutto me stesso, viene offerto a te per amore e quando uno parla l'altro può far finta di ascoltare, può accogliere e portarlo dentro, può, è rispettata anche la libertà dell'interlocutore. Guardate che parlare è veramente notevole perché dice di una profondità personale che lascia liberi. Anche qui mi spiego subito. Provate a pensare al fenomeno dell'ascolto e del fenomeno del vedere. Per questo nella Bibbia Dio più che vedersi si ascolta perché vedere Dio vedere la vista cosa fa la vista? Fa del soggetto vedente il soggetto protagonista. E' chiaro? Si dice appunto il punto di vista perché se io ho solo un punto di vista perché ho gli occhi altrimenti vedo solo quel pezzo qua. Sono io il centro del mio campo divisivo perché io determino la possibilità della vista. L'ascolto mi decentra mettendomi al centro perché io posso sentire da tutte le parti e nello stesso tempo sono protagonista centrale anche se non sono la fonte di quello che ascolto. E' fantastico l'ebraico. noi siamo troppo occidentali siamo malati della vista vedere la filosofia greca ci ha ammorbati perché teoria vuol dire visione ma per la Bibbia la verità della vita non si vede la si ascolta perché che io veda il Signore qui davanti non vuol dire niente ma se io l'ascolto e gli parlo perché vedere cosa vuol dire cosa cambia ma parlargli è che cambia e la Bibbia lo sa quindi Dio non si vede Dio lo si ascolta perché lui parla perché che si faccia vedere ma non parli cosa te ne fai è importante che lui parli qual è la sorprendente novità del Nuovo Testamento quella che lascia tutti a bocca aperta i protagonisti di quel momento e poi noi al seguito quella espressa nell'inizio della lettera agli ebrei Dio è stato bravo ha parlato tante volte attraverso degli uomini dei profeti ma adesso adesso Dio è venuto egli stesso a parlarsi a dirsi non abbiamo più bisogno di un intermediario ma c'è Gesù che mi dice Dio per questo dopo noi abbiamo detto che Gesù è la rivelazione di Dio perché è il parlare di Dio in maniera compiuta e allora vorrei farvi vedere in maniera anche molto molto semplice perché ci può tornare utile per alcune altre cose della vita come il Nuovo Testamento poi ha provato a raccontare che parole ha usato per dire quella cosa qui bella che Dio si è fatto incontro agli uomini in Gesù in una maniera che più alta non si può il primo a parlare a scrivere di queste cose il primo che scrive queste cose come scrittura Nuovo Testamento è San Paolo perché San Paolo ha scritto i suoi testi le sue lettere prima della scrittura dei Vangeli quando San Paolo vuole dire quella meraviglia qui non usa il termine rivelazione non usa il termine parlare parola usa una parola che a lui piace tanto mistero così andremo a capire perché la liturgia usa mistero della fede così risolveremo un po' di questioni questo è un famosissimo inno di Paolo che dice ah qui ragazzi è successa una cosa che prima della creazione del mondo tutto o Dio aveva una voglia di entrare in relazione con l'uomo perché tutto è stato fatto a immagine somigliante di Gesù guardate che bello che vuol dire che se tu gratti 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 in fondo trovi scritto made in Jesus non made in China non fatto in Cina fatto in Italia fatto in Gesù ci avete mai pensato non fatto da Maria Belotti e Guglielmo Maiolini che sono papà e mamma chi se n'è fatto in Gesù è tanta roba perché papà e mamma non mi salvano Gesù sì quindi onore a papà e mamma ma viva Dio che sono di Gesù prima che di mio papà e mia mamma perché gratta gratta in fondo c'è scritto lo stampino Gesù 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 a immagine e somiglianza di Dio ma chi è la vera immagine e somiglianza di Dio? Gesù quindi siamo fatti è il ragionamento che fa Paolo in Gesù abbiamo capito lo stampino con cui siamo stati pensati come abbiamo fatto a scoprire tutta questa cosa qui perché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà questa è la traduzione dell'italiano che io un po' contesto perché era più intelligente il latino misterion in greco è tradotto in latino con sacramentum sacramento è la parola che normalmente abbiamo sempre usato per tradurre la parola mistero solo che noi troviamo adesso scritto in italiano il mistero della sua volontà cosa vuol dire in italiano mistero quando una cosa che non capisci strana stravagante dici beh notate che c'è qualcosa di contraddittorio perché dice il mistero della sua volontà ma è chiarissimo il mistero è il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose non c'è più niente di misterioso qui anzi è vero il contrario Gesù non è il mistero nel senso nostro italiano perché Gesù è colui che ci ha detto ci ha fatto sapere ci ha rivelato ci ha messo in condizione di avere l'incontro con Dio uguale per questo io avrei scritto il sacramento perché il sacramento cosa è? il segno visibile della presenza di una grazia invisibile era più chiaro perché mistero mette sulla cattiva strada tant'è che voi cosa pensate quando si dice mistero della fede se pensate qualche cosa vi è mai capitato di pensare se capese nostre come me credi ecco se pensate così siete totalmente fuori strada per colpa dell'italiano perché in latino era misteri un fide vuol dire ma ti sei reso conto che nel segno materiale è presente tutta la grazia di nostro signore tant'è che guardate la risposta annunciamo signore cioè se l'è in segreto te capi il nostro ego come fai andare a dirlo in giro capite che c'è qualcosa di contraddizione perché mistero per noi vuol dire qualcosa che incomprensibile o strano o non conoscibile quindi quando leggete San Paolo e usa queste parole adesso sappiate che c'è dietro questo suo modo di dire perché Gesù è il segno fatto carne di tutta la presenza della grazia di Dio in lui c'è la pienezza della divinità tra l'altro anche qui parlerei per ora di queste cose ma se ne fa possibile il disegno di ricapitolare in greco è anachefalaiosis e tecnicamente è il lavoro di mettere insieme i capitoli qual è il problema dell'uomo che vive le sue giornate immaginate come se fosse un libro e ogni paginetta dopo casca in terra scrivi una pagina va una pagina va qual è il lavoro che fa Gesù di tenere insieme è il dorso del libro che ricapitola mette insieme le pagine sparse capacità di dare unità e senso alla vita perché senza Gesù tu scrivi pagine ma vanno in giro l'unico che è capace a tenere insieme il torso di una vita perché la prima pagina l'ha scritta lui creandoti più a immagini e somiglianza e l'ultima pagina grazie al cielo la scriverà lui accogliendoti di là perché se la tua vita fosse solo affidata al tuo diario fatti il segno di croce da qua all'eternità perché non so cosa pensate voi ma non è che siamo proprio messi benissimo Paolo ha chiarissimo quella roba qui e lo dice guarda che Gesù è il dorso che tiene insieme il libro della tua vita la tradizione dei sinottici Marco Matteo e Luca non ha delle parole particolari per indicare quello che noi intendiamo per rivelazione perché è preoccupata di descrivere Gesù che parla Gesù che agisce solo una volta solo una volta nei sinottici scappa la parola rivelazione in un passaggio molto celebre dove si dice tutto mi è stato dato dal padre mio e nessuno conosce il padre il figlio se non il padre nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale lo voglia rivelare notate il giro di Gesù non so se avete mai pensato che dice ma allora te che menado che non si capisce padre figlio figlio padre se ci fosse qua Guglielmo Maiolini detto Gino mio papà chi è che conosce Guglielmo Maiolini detto Gino come papà solo io che ne sono figlio perché voi lo potreste conoscerlo come mio papà eventualmente o potreste conoscerlo come serramentista corridore avvisino quello che ne avete voglia voi ma per conoscere il padre come padre ne devi essere figlio e per conoscere il figlio come figlio ne devi essere padre quindi l'unico che conosce Dio come padre per quello che solo noi conosciamo Dio padre e le altre religioni non lo sanno quella roba qua perché o ce lo dice il figlio che ne è figlio perché come fai a conoscere una persona come padre se non ne sei figlio ma lui che ne è figlio ti dà la possibilità di conoscerlo come padre e questo è il regalo che fa Gesù trasforma gli uomini da animaletti dell'evoluzione della specie un po' più elaborata in figli di Dio perché essere questo è il battesimo veniamo messi nella condizione di figli di Dio per poter conoscere Dio come padre riesco a rendere guardate sembro delle frasettine 448 buttate lì ma c'è dietro tanta e questa è la rivelazione questa è la rivelazione c'è l'incontro il poter incontrare Dio come padre e il poterti incontrare come figlio dice San Paolo questa è la bellezza abbiamo ricevuto uno spirito da figli non da schiavi e possiamo gridare abbà padre abbà padre e riconoscerci non come uomini non come peccatori non come ma come figli di Dio ma se non fosse venuto il figlio di Dio con la F maiuscola a dircelo mai l'avremmo immaginato o l'avremmo immaginato alla maniera dei greci che pensavano di essere figli degli dèi sì ma cosa vuol dire qui figli di Dio vuol dire proprio a immagine e somiglianza di Gesù bene per dirvi tutta quella cosa qua e così poi concludiamo e passiamo poi alla parte dedicata al concilio Vaticano II stasera non potevamo perché è uno dei capolavori anche letterari dell'umanità non potevamo non divertirci con il cosiddetto prologo del Vangelo di Giovanni perché Giovanni è un uomo molto intelligente e sa da bravo didatta che retoricamente all'inizio devi dire già tutto il riassunto di quello che vuoi fare poi svolgi il tema e alla fine lo riprendi e quindi nei primi versetti ti fa già tutto il riassunto di quello che vuol dire in tutto il Vangelo quindi capisci tutto il Vangelo alla luce del prologo e il prologo si capisce alla luce di tutto il Vangelo è molto interessante come fa a dire tutta quella cosa qua San Giovanni Enarche Enarche Enologos in principio era in principio tra l'altro è la modalità in greco con cui si traduce Bereshit che è l'inizio di Genesi e quindi qui ragazzi cari è la nuova creazione qui la nuova alleanza nuovo testamento è nuovo tutto in principio era il noi abbiamo tradotto verbo per la carità anche qui Gesù Bambino nell'ultima traduzione Medizima è pull io ho usato solo una volta catechismo quella roba qua lo riconosco avrò peccato ma solo una volta l'ho usato e sapete è la prima domanda che mi ha fatto i ragazzini e le medie in principio era il verbo e dov'è il soggetto no perché nella nostra il verbo lo usi appena in grammatica in logica era il verbo e il soggetto di chi era il verbo che cosa avete mai pensato a pensare il verbo ma logos in greco è il modo per tradurre parola in principio era la parola è il modo dabar in ebraico logos in greco in principio era la parola e tra l'altro se posso anche dirla tutta per chi ha studiato un po' di queste cose Heidegger in un celeberrimo passaggio di segna via fa uno studio su che cosa vuol dire leggein perché logos ha ragione leggein il verbo originario da cui deriva la parola vuol dire raccogliere in principio era il legame perché la parola è il modo per tenere insieme il legame il rapporto con questo è Dio colui che è il legame d'amore al suo interno e colui che si lega con noi e lega noi a sé tanta roba perché il verbo dove vai dopo il verbo vabbè ma così è e quindi andiamo avanti così il verbo era presso Dio il verbo era Dio tutto è stato fatto niente è stato fatto tutto vedete che va a riprendere quanto anche Paolo aveva già annunciato in lui era la vita ah il separlo il parlare il legame è la vita il legame è stare legati a qualcuno è la vita la vera vita non è mica quella dei single noi celebri celebri noi celebri celebri siamo strogotti siamo strani perché nella vita sei fatto per legarti a qualcuno perché la vita è questa la vita non è una vita in solitaria ma il legame è la vita e la vita è luce avete mai visto due ignari innamorati gli e bei fese perché sono ah cioè sprizzano luce da tutte le parti e quella roba lì il legame è vita che è luce e la luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l'hanno accolta veniva nel mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo allora qual è l'idea di Giovanni io ci ho impiegato un po' a capirlo perché leggevo tutti questi commenti degli esegeti di chi studia quella roba non riuscivo ad andarcene fuori poi ho trovato uno che mi ha illuminato qual è il discorso che sta facendo Giovanni immaginate di creare un super buio qui dentro e avere il moccolino di una candela accesa le tenebre sono capaci a spegnere la luce ma la luce è capace a vincere le tenebre ti sembra piccolino davanti a tutto il male e le tenebre del mondo ma la luce ignari che niente fa non la spengono le tenebre e questa è la vita perché la vita il legame l'amore acceso l'odio non lo sa spegnere ma è l'amore che fa rifuggire indietro l'odio è potentissimo Giovanni perché sta rileggendo tutta la storia e la bellezza della proposta di Gesù egli era nel mondo il mondo fu fatto per mezzo di lui eppure il mondo non lo riconobbe cioè venne fra la sua gente ma i suoi non l'hanno accolto che è la cosa drammatica che intristisce Giovanni noi siamo fatti a immagini di Gesù lui ti viene incontro e ti vuole dare vita gratis tra l'altro gratis cioè cosa dovresti fare al taguador cioè dovresti dire uuuuh e invece cosa fanno gli uomini se ne vanno non lo vogliono accogliere non non lo capiscono non lo vedono no 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 troppo comodo lo vedono lo conoscono lo riconoscono dicono ciao ciao tu va per la tua strada io vado per la mia a quanti l'hanno accolto ha dato un potere sapete che noi abbiamo tutti i superpoteri noi abbiamo il superpotere più potente al mondo abbiamo la possibilità più forte quel termine potere è tradotto è exousia in greco è quel verbo è quella sostantivo che viene usato dai sinottici per dire che con quale potere con quale autorità fa queste cose Gesù è il potere di Gesù è passato ai suoi discepoli qual è il potere di diventare figli di Dio questo è il potere più potente perché anche se facessi risuscitare i morti anche se facessi sparire tutti i tumori del mondo anche se ma non avessi il potere di essere figlio di Dio non sarebbe e qua cito Francesco a proposito perfetta letizia perché perfetta letizia è questo legame con a quelli cioè che credono nel suo nome il nome è dire alla sua persona a quelli che si fidano ascoltano la sua persona e questa cosa qui non è fatta semplicemente da uomo non è un potere del sangue della carne ma è una generazione una rigenerazione voluta da Dio pensate è l'unico Giovanni che poi con Nicodemo nascere un'altra volta bisogna entrare forse nel grembo ma no è nello spirito interessa molto questo tema qui a Giovanni e te lo annuncia e te lo enuncia e il finale il logos Sarx e Geneto si è fatto carne e è venuto a piantare la sua tenda in mezzo a noi a me spiace per i vegani a me spiace anche per i vegetariani ma io sono contento che Gesù si è fatto bistecaso perché Sarx non è Soma ma è proprio la bistecco la costata la bella la carne la fiorentina è una chianina da Kele al sangue capite che scandalo che Dio si faccia carne quindi ditele ai vegetariani che non si è fatto insalata frutta no mi spiace carne carne Sarx e Geneto dopo mangiate pure quello che avete voglia per altre questioni ma qui grazie a Dio sono da un cristianesimo carnale per fiortino bella carne che era uno scandalo cioè Dio Dio al massimo l'anima lo spirito la carne no no carne perché scusate se volete bene a una persona la volete accarezzare baciare eccetera eccetera perché voi fate l'amore con un fantasma brai fate l'amore platonico di chi? incontrare una persona e inseparlo vuol dire che poi da un contatto ci deve essere ci deve essere e Dio finalmente si è reso incontrabile cioè questi fanno i salti di gioia dicono qui è una roba meravigliosa noi abbiamo visto gloria gloria di unigenito pieno di grazie cioè qui c'è arrivato giù il paradiso c'è venuto giù tutta la divinità è una sorpresa gloria è in ebraico kabo Yahweh kabo è il peso dell'amore di Dio è l'amore di Dio che si fa peso che si fa tangibile che si fa vedere perché l'amore si vede perché se non si vede è il mio amore perché l'amore è l'amore si vede diteglielo alle femminucce soprattutto quando si autoilludono con i maschi si mi ama anche se non mi guarda mai non ho la te te amo no perché lo sa perché se lo vedi c'è una consistenza perché se non c'è una consistenza palpabile reale non c'è non c'è grande Giovanni allora quante cose insegna sull'amore e sulla vita dalla sua pienezza grazia su grazia grazia verità eh Dio nessuno l'ha mai visto proprio il figlio unigenito che è nel anche qui nel seno del padre mi dice certe traduzioni dell'ostrego meno male che la gente non penne nel seno del padre non c'entra niente il seno è il grembo anche nell'ave maria per fortuna che la gente non penne ave maria piena grazia signore tu sei benedetta il frutto del tuo seno eh le altafero dal seno che in latino è ventris il grembo ma meglio mi risparmio mi capisce mio certe robe però guardate ripeto per fortuna non pensiamo non manti tanto il padre eterno raddrizza tutte le nostre preghiere quindi don't worry niente problema che ci rimette a posto però se uno dovesse pensare a quello che dice nel seno nel seno che strano è proprio strano tra l'altro far dire anche queste parole qui ai ragazzini non mi sembra un po' curiosone curioso lui lo ha rivelato bene adesso ti posso usare il termine rivelazione adesso ti uso il termine rivelazione ma perché ti ho chiarito tutto quello che intendo dire perché non devi pensare alla vecchia maniera dei greci o degli altri popoli ma noi cristiani quando usiamo rivelazione vogliamo dire questa cosa qui l'incontro di un dio che nella storia si è reso carne e ci ha reso presente il suo amore ok? bene allora se così è andiamo subito allora al documento del concilio vaticano secondo perché è una chicca veramente notevole prima vi devo però indicare una cosa come mai se rivelazione è stata usata così poco e con parsimonia nel nuovo testamento nella Bibbia poi invece noi cristiani e anche i documenti magisteriali hanno imparato a usare molto rivelazione di Dio Dio si rivela come mai abbiamo imparato questa lingua usiamo questa parola qui per onore di cronaca è tutta colpa o merito sua questo qui è Hegel perché il grande la grande stagione dell'idealismo tedesco ha chiamato Offenbarung che in tedesco vuol dire rivelazione il movimento dello spirito assoluto nei confronti del mondo quindi noi abbiamo usato questa parola abbiamo imparato a chiamare rivelazione quella roba lì perché c'è venuta dalla filosofia più che dalla grande tradizione cristiana infatti il concilio di Trento non usa mai questa parola è sconosciuta ma dal Vaticano primo in poi quindi da fine ottocento in poi i cristiani si sono ormai abituati a usare questo concetto qua dicendo che ovviamente noi non usiamo come la intende Hegel Fichte Schelling lo diciamo alla nostra maniera però abbiamo imparato questa parola dalla stagione filosofica apro anche qui e chiudo una parentesi Offenbarung in tedesco Offen vuol dire aprirsi di Dio in italiano rivelare letteralmente cosa vuol dire mettere su il velo rimettere il velo rivelare vuol dire velare un'altra volta quindi meglio il tedesco perché è l'aprirsi di Dio perché rivelazione cosa fa ti viene incontro e poi si copre su un'altra volta quindi il concetto latino la parola latina è un po' distante dalla parola greca dalla parola tedesca però ormai è andata così allora al di là di tutte le questioni lessicali terminologiche proviamo a fare un bel riassunto e vedrete quanto è bello il cristianesimo e quanto noi cristiani diciamo di che cosa faccia Dio nei nostri confronti perché i padri conciliari nella costituzione dogmatica notate il titolo costituzione dogmatica il tipo di documento è un documento molto forte costituzione dogmatica cioè lì mettiamo dei fondamenti fondamentali perché dopo il Vaticano II ha scritto anche delle decreti ha scritto anche delle altri documenti meno forti sono solo quattro le costituzioni quelle forti quella dedicata alla Bibbia alla tradizione si chiama Dei Verbum che è un librettino piccolino piccolino è la più corta ma è densissima è proprio molto molto concentrata quindi non è facilmente digeribile e allora io qui vi ho messo il testo dei Verbum II e dei Verbum IV vedete che sono poche ricche ma adesso ve le faccio vedere didatticamente andando a offrirvi dei canali di ingresso per riuscire a comprendere quanto è forte quello che ci sta dicendo prima cosa che fanno i padri conciliari signori cristiani quando usate il verbo rivelare e dite Dio rivela qual è il complemento oggetto da usare cosa dobbiamo dire Dio rivela i suoi segreti Dio rivela delle informazioni Dio rivela no il complemento oggetto da usare è se stesso Dio si rivela piacqua Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona rivelare seipsum e va a riprendere il grande insegnamento di Paolo il mistero della sua volontà il sacramento della sua volontà guardate che sembra una cosa ovvia ma adesso vi faccio vedere subito come la declinazione intellettualistica rivelare le informazioni rivelare i segreti sia potentissima anche in una pratica spirituale come è l'alexio divina come funziona l'alexio divina tranne che nella vostra zona che l'alexio divina è quel metodo di lettura della parola per riuscire a incontrare il Signore e ascoltarlo nella vita lexio lettura meditazio capire bene quello che ha detto Orazio preghiera noi la contemplazio l'abbiamo saltata perché siamo troppi bresciani l'abbiamo appiccicato axio che cosa adesso devo fare prendete tutti questi testi e bruciateli perché fino a questa deriva post Vaticano II mai l'alexio divina aveva l'axio mai mai perché il fine dell'alexio divina è la contemplazio non l'axio ma noi siamo pragmatici bresciani bisogna fa addirittura anche con l'alexio e non ce ne accorgiamo più per farvi vedere la stoltezza di questa cosa vi dico voi cosa pensereste di due innamorati che sono accoccolati abbracciati in riva al mare al tramonto stanno lì se la contano su poi vanno a casa voi cosa pensereste se lui no lui no è difficile perché lui non pensa molto se lei dicesse quale idea mi porto a casa adesso che cosa devo fare adesso quel di chi cosa vuol dire è una bestialità perché la finalità dell'incontro è l'incontro l'incontrarsi è quello il cuore non l'idea che mi porto a casa o adesso che cosa devo fare noi abbiamo ridotto anche l'incontro con Dio a una idea da portarci a casa magari dopo da partire alla catechesi o qualche cosa da dire o qualche cosa da applicare più che a incontrarlo è potente mamma mia è potente che non vuol dire che dopo non dobbiamo convertirci c'è anche la modalità va bene ma Dio ti viene incontro non per regalarti delle idee o dirti le cose che devi fare noi ce l'abbiamo dentro la roba qui perché Dio viene incontro per dirci cosa dobbiamo fare no 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 non perché lo dice Raffaele Maiolini ma perché lo dice il concilio Vaticano II e io mi fido più del concilio Vaticano II che delle vostre idee mi spiace perché Dio ti vuole incontrare per incontrarti perché questa è la sua finalità non altro o immediatamente altro perché l'incontro è la finalità non funziona così nella vita che quando sei innamorato e hai incontrato veramente qualcuno poi cambi la vita perché se dopo vai in giro anche a cambiare la vita ma non c'è la forza di un legame di un amore che ti cambia tutte quelle tentativi lì rimangono posticci perché ciò che trasforma è l'incontro con me il tempo è compiuto il regno di Dio è vicino è la vicinanza di Dio accogli questa allora sì che ti convertirai ok seconda cosa che fa il Vaticano II ok ho capito che Dio quando viene incontro rivela vuole fare un incontro interpersonale ma nell'esperienza umana ci sono tanti incontri interpersonali qual è l'incontro interpersonale più vicino a livello umano a quello che Dio vuole fare io posso incontrare il postino posso incontrare la mamma posso incontrare un amico posso incontrare un fratello qual è l'analogia della relazione umana più vicina e incredibilmente sorprendentemente per la prima volta in un documento magisteriale c'è scritto che l'amicizia tanquam ad amicos come ad amici è il modo con cui Dio si relaziona agli uomini e i padri conciliari ve lo posso assicurare fino all'ultimo istante hanno lottato alcuni per dire come amici è un po' esagerato facciamo come a figli che è meglio perché come amici è un po' troppo eccessivo ma grazie al cielo gli altri padri conciliari hanno resistito perché perché in quel come ad amici i padri conciliari vogliono dirti che è totalmente libero lui e sei totalmente libero tu se avessero scritto come a figli e voi lo sapete bene figli una volta messi al mondo te li pippi vita natural durante volente o nolente anzi se non ti tolgono la patria potestà fino a 18 anni sono tutti affaracci tuoi non puoi anche se volessi fregartene non puoi perché la legge ti viene a bussare un amico se tu lo mandi a quel tal paese nessuna legge viene a prenderti Dio non ha nessuna legge con cui si vincola né tu sei vincolato a lui da nessuna legge sei totalmente libero e totalmente affidato dal tuo gesto d'amore vuoi stai non vuoi voi potreste da stasera dire io mando a quel tal paese il padre eterno vi vengono a prendere alcuni zero sta la libertà del tuo amore decidere di rimanere in relazione con lui fantastico è una libertà è una bellezza è per questo che non si può costringere al credere non si può perché il credere alla relazione con Dio è una relazione d'amore e non posso obbligare uno a innamorarsi e non posso obbligare uno a sposare come fa grazie al cielo lasciatemi almeno libero le sposate la memuruso o mia ok non mia di me Raffaele e si intrattiene con essi l'altra cosa fantastica quella roba qui dietro è andare a bere l'aperitivo Dio si intrattiene con te è per fare l'happy hour è per uscire insieme a fare una passeggiata e prendere un gelato insieme perché dopo tu ti immagini Dio ma Dio vuole stare con te per stare con te senza altra finalità se non te noi sfunzionalizziamo troppo ci picchia anche il Padre Eterno ma c'è questa libertà e ariosità secondo il Concilio Vaticano secondo che abita l'incontro che Dio vuole stabilire con gli uomini qual è l'obiettivo finale di tutti questi incontri che Dio vuole fare con l'uomo usa tre modalità espressive diverse hanno accesso al Padre partecipi della Divina Natura comunione con sé sono modalità diverse per dire l'obiettivo è incontrarti così profondamente che io e te siamo una carne sola è un matrimonio usa il linguaggio matrimoniale non sono più due ma sono una sola carne tant'è che la comunione al corpo di Cristo perché mangiando di questo corpo diventiamo un solo corpo questo è l'obiettivo di Dio sposarti l'obiettivo di Dio è unire la sua vita alla tua per fare un patto di alleanza l'alleanza matrimoniale un'alleanza d'amore tu hai accesso a lui sei dentro la sua vita lui ha accesso a te è dentro la tua e senza libertà non c'è matrimonio quindi qui tocca poi ai due decidere se e quanto coinvolgersi come si fa a fare tutta questa cosa qui come fa Dio a fare tutta questa cosa qui e un altro piccolo grande colpo di genio di questo documento è che dice che l'amore avviene solo dentro una storia d'amore l'amore non è un punto non è un momento non è un istante ma è una storia d'amore e la storia dell'amore di Dio con gli uomini è stata preparata e usa quella parola particolare questa economia della rivelazione ditelo a quelli che fanno economia che a volte non sanno neanche loro cosa vuol dire la parola economia oikonomos vuol dire letteralmente la legge della casa che nell'antichità era il modo per dire come concretamente poi si conduce la vita quotidiana il modo di vivere nel tempo e nello spazio cosa ha fatto Dio vi siete mai chiesti perché Gesù aveva arrivato solo 2000 anni fa non poteva buttarlo giù subito non poteva venire giù subito tutto stomenado con Abramo Isacco Giacobbe non poteva venire giù subito lui no perché la storia d'amore ha bisogno di conoscenza di preparativi del fidanzamento alle tappe e solo quando il tempo è maturo il tempo è compiuto allora certo che il desiderio di Dio era di arrivare il prima possibile ma ha incontrato di quegli ostrega di uomini che una volta ogni tanto erano bravini ma a certe volte il popolo di Israele c'ha paura che le sbandate altro che in fedeltà dice Osea il cantico è prostitute che piuttosto sta a commettere con le prostitute che vuol dire piuttosto di stare con Dio nel patto matrimoniale con Dio ti becchi tutto e tutti ma non vuoi Dio e ci ha impiegato un bel po' ha avuto una pazienza Dio guardate che quando ci penso a queste cose 1700 anni le ha impiegate da Abramo a Gesù io mi sarei perso molto tempo prima una fedeltà star dietro a quel popolo dell'ostrega e anche qui sono curioso quel giorno che seccherò fuori nell'andare in paradiso perché ho una lista di domande prima fu una durmido di un paio di secoli dopo ho un po' di domande da fare al Padre Eterno perché noi sappiamo noi diciamo che Abramo è il primo il padre dei credenti ma magari Dio prima di Abramo è andato a cercarsene altri e gli hanno detto di no perché noi sappiamo la storia dell'incontro quando qualcuno gli ha detto di sì quando è partita la storia di fede allora anche la rivelazione poi sai come è andata ma noi non sappiamo se prima di Abramo è andato in giro a bussare a cercare qualcun altro noi sappiamo che a un certo punto uno finalmente gli ha detto di sì e questo è Abram non ti chiamerai più Abram ma Abramo anche una roba lì è curiosa magari ci aveva provato con gli schimesi magari erano andati con gli indiani o con gli africani e poi te gli europei no non li ha neanche presi in considerazione a quelli perché i ciao però è curioso perché a volte non ci pensiamo perché proprio quel po' è il privilegiato sì da tanti punti di vista ma come facciamo a sapere perché io sto alla porta e busso sto alla porta e busso sto alla porta e busso ma quando trovo qualcuno che mi apre cioè entro e poi da lì mangiamo facciamo comunione e via sto citando Apocalisse come avviene questa storia d'amore anche qui in latino è gestis verbisque e è voluto non parole e eventi ma eventi e parole e anche qui non lo so ancora come fare ma dovremmo pensarci su un pochetto perché noi per parlare di Dio per far incontrare Dio usiamo tante parole 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 il Vaticano II dice gestis esperienze perché è una storia d'amore si vive la si incontra la si può dire vivendola perché altrimenti fai tutti i discorsi i libri sull'amore ma non hai mai amato che è il di chi e non avete la sensazione a volte che le nostre catechesi risuonino come quella roba qua come tanti discorsi sull'amore a uno che non ha mai amato tanti discorsi su un Gesù a uno che dice non l'ho mai incontrato perché la catechesi deve accompagnare un'esperienza di fede non la può generare o non è quello il modo per generarla innanzitutto e soprattutto è intelligente il Vaticano II gestis esperienze perché lì l'esperienza di incontro è quella che poi ti aiuta a dire parlare notate i sacramenti funzionano così guardate i sacramenti sono certo delle parole ma sono delle azioni gestis e delle parole sulle azioni e tutti i sacramenti sono tutte azioni notateli il modo di rendere presente Dio non è semplicemente e soprattutto con la parola ma con un gesto accompagnato da una parola ma con un gesto un evento perché il logos è carne la parola è vita fantastico bene se questo è chiaro beh allora Gesù è il numero uno perché quando Dio ha parlato nella storia quando Dio ci ha incontrato nella storia quando Dio si è reso presente nella storia in persona in Gesù allora Gesù è la pienezza e il compimento della rivelazione e vado al termine anche qui guardate come noi italiani noi italiani abbiamo una piega una mentalità intellettualistica sempre spiega l'hai venuto perché abitasse tra gli uomini e guardate la traduzione questa è la traduzione italiana ufficiale accidentico può scritto ma è merculto mio forse avranno ragione loro ma c'è qualcosa che non mi torna spiegasse loro i segreti di Dio mei ci apparese e cuparese di nuovo rivelare spiegare i segreti no 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 in latino c'è scritto e narraret è una narrazione è un racconto non è una spiegazione intima dei e l'intima dei e sono l'amore intimo di Dio la sua intimità la sua interiorità non è un segreto che segreti e segreti è l'intimo di Dio ma noi italiani abbiamo quella piega qui che vrucchete ci vogliamo subito su misterioso segreto non si può spiegare finale andiamo qui allora ricordati che Gesù ha rivelato Dio non solo con le sue parole non solo con le sue opere ma soprattutto con la sua persona capito allora adesso perché è chiaro che la rivelazione Gesù certo che ha rivelato il padre anche raccontando le parabole certo anche guarendo i malati ma dov'è la rivelazione massima di Dio nella passione morte resurrezione e fusione allo spirito santo e lì di parole ignari è la sua persona è la sua stessa persona che rivela Dio perché Dio lo puoi rivelare solo attraverso la tua persona perché se certo anche userai le parole dei gesti ma è la persona perché la tua persona quella che noi diciamo la tua testimonianza personale perché altrimenti le tue parole e potresti essere anche magari un po' imperfette non proprio puntino puntino con le parole ma se la tua persona è innamorata di Gesù o viceversa potresti avere anche tutta la teoria puntino ma se la tua persona non è innamorata di Gesù non è abitata da Gesù non sono più io che vivo ma Cristo vive in me ah gli puoi parlare finché ne hai voglia ma il finale allora se questo è vero siccome l'economia cristiana siccome questa rivelazione che Gesù ci ha regalato è quella nuova e definitiva cioè questo qui è il compimento non dobbiamo aspettarci alcun'altra rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo cosa sta dicendo il Concilio Vaticano secondo due cose molto importanti la prima che in Gesù c'è stato detto e dato tutto quello che il Padre voleva dirci e darci è un'espressione di San Giovanni della Croce non è che ci sono ancora delle cose che sono rimaste lì ci mancano dei pezzi il puzzle c'è tutto al limite dobbiamo metterlo insieme meglio dobbiamo capirlo un po' ma c'è tutto i pezzi ci sono tutti non dobbiamo aspettare ancora qualche cosa che ci manca ma tutto quello che doveva dirci tutto quello che doveva darci ci è stato detto e dato è un'espressione che ci manca è un'espressione